Oggi siamo qui nel Parco Nazionale Gran Paradiso per un incontro un po' speciale. Come riconoscimento per un'intera vita dedicata alla natura, per il messaggio di conservazione che con le loro opere diffondono nel mondo, per i valori che incarnano con la loro attività, il Gran Paradiso Film Festival ha voluto attribuire il titolo di Gran Paradiso Ambassador ad Anne-Éric Lapier. Andiamo a conoscere di meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.